Come si sta portando avanti una fase di ascolto sia dei soggetti istituzionali, quindi dei comuni, come anche degli operatori della raccolta e degli agricoltori. Stanno emergendo delle situazioni e delle opportunità, anche se il problema è avvertito ancora in maniera latente e quindi quest'opera di sensibilizzazione è quanto mai necessaria, soprattutto per la micro raccolta. Infatti, mentre le aziende agricole più grandi sono ben organizzate, il problema della raccolta dei rifiuti plastici non pericolosi in agricoltura sussiste nei piccoli agricoltori. Ed è proprio questa frammentazione che rende difficile la soluzione. La provincia sta per bandire anche un servizio, sta per avviare un servizio di micro raccolta, sempre un servizio sperimentale, che avverrà nei prossimi mesi e questo ci darà un po' il polso della situazione e della problematica.